Allora Francesca, adesso trattiamo l'argomento di scienze. Tu quale argomento hai dovuto ampliare di scienze? Quella? L'alimentazione. Bravissima. E il titolo meglio? Come? Alimentazione solo? Un'alimentazione sana. Allora quindi mangiare bene per crescere bene. Qui abbiamo il disegno di Francesca per far capire come è formato il nostro organismo. Per la maggior parte di? Per prima cosa è formato di acqua. Quindi una grande quantità di acqua, poi proteine, grassi, sali minerali, zuccheri e vitamine. Ma tutte queste che si chiamano sostanze? Nutritive. Il nostro corpo da dove le prende? Dal cibo. Dal cibo. Ok. E un'altra cosa. Allora, l'acqua che funzione ha nel nostro corpo? Idratare. Idratare e poi? Purire. Purificare. Invece, i grassi e sali minerali che funzioni hanno? Di energia, di? Energia. Come la chiamavamo noi? Di ri? 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 Se? Riva. Riserva. Riserva. Ok. Poi invece gli zuccheri? Sempre energia immediata. È vero. E le vitamine che funzioni hanno? Ci danno la forza. Le vitamine che funzioni hanno? Di pro? Di proteggere per non farci ammalare. Invece le proteine che fanno? Sono i mattoni? I mattoni del nostro corpo. Quindi i costruttori delle nostre cellule. Ok. Adesso andiamo a specificare quali sono i cibi che hanno la funzione energetica. Che significa? Energia per fare che cosa? Per muoversi, correre, camminare. Poi per? Pensare. Anche il cuore. Far battere? Il cuore. Oh. Allora, i cibi che hanno questa funzione energetica sono i car? I carboidrati. E come si dividono i carboidrati? In co? Comple? Complessi. E zuccheri? Semplici. Allora, mi dici quelli complessi? Pan? Pane. Dai, pa? Pane, pizza, pa? Pasta. Pata? Patate. Poi invece i zuccheri semplici? Li troviamo nei dolci. Marmellate. Marmellate. Cioccolate. E poi abbiamo i grassi. Sempre anche loro ci danno una funzione energetica. E ci sono i grassi e li ritroviamo nell'olio. Poi? Nel burro. Dai. Latticini. Burro, latticini. Oh. Questi sono i cibi che ci danno energia. L'energia immediata e l'energia di riserva. Che significa di riserva? L'energia che... Il nostro corpo? Ha bisogno di muoversi. Eh. Ma di riserva che cosa fa il nostro corpo? Se lo prende? Dai cibi. Se lo prende? Togli le mani dal viso. Quando ne ha? Bisogno. Ecco. Poi abbiamo la funzione plastica. La funzione di costruire le cellule del corpo. Quindi i bambini crescono, invece gli adulti rinnovano le cellule. Vero? Si rinnovano. Allora, i cibi che hanno questa funzione plastica di costruzione sono le proteine che si dividono in proteine... Animali. E proteine... Vegetali. Allora, mi dici proteine e animali? Sono le car... Carni. Carni. Salumi. No, salumi. Uova. Uova. Latticini. Poi invece le proteine vegetali? Che sono fave, piselli. Come si chiamano questi? I legumi. Ok. Fave, piselli, broccoli. No, il broccoli. No, non ti sbagliare. Poi c'è la funzione protettiva e regolatrice. Allora, che cosa? Che ci devono proteggere da che cosa? Dalle malattie. Dalle malattie, quindi dai... che ci combatte, quindi ci devono combattere dai... dalle malattie. E abbiamo i sali minerali che sono contenuti nelle verdure. Frutta, seni, legumi. Poi le vitamine? Che le troviamo? Dove le troviamo le vitamine? Nella? Frutta. Nella frutta. Un'altra cosa importante. Quindi, per vivere, Francesca, in modo salutare e bene, dobbiamo tenere presente tre principi. Mangiare con mode moderazione. Che significa moderazione? Che mangio tre chili di pasta e tre chili di pane, no? Moderazione che significa? Un po' di? Un po' di tutto. Un po' di pane, un po' di pizza, un po' di pasta. Eh, quindi deve essere in questo caso anche varia. Non posso mangiare solo la pasta o solo la carne o solo la frutta. Devo variare la mia alimentazione in modo come equilibrato. Quindi bisogna mangiare un pochino di tutto e variare i cibi. Non è che a me mi piace la pasta, mangio solo la pasta. No, devo mangiare anche le cose che non mi piacciono. Allora, qui invece, poi lo hai colorato, abbiamo la piramide dei cibi. Oh, la piramide alimentare. Perché questa piramide ci fa capire cibi. Quelli che dobbiamo mangiare di più bene e quelli che dobbiamo mangiare di meno. Ok, sotto ci sono quelli che dobbiamo mangiare di più. Oh, più spesso, più volte al giorno e alla settimana. Tra cui? Le verdure. Le verdure. Poi è importante bere molta acqua. Poi anche? La frutta. La frutta. Poi qui è importante, però senza esagerare, il pane, la pasta, frutta, frutta secca. Poi andiamo avanti, senza esagerare, due o quattro volte a settimana. Uo? Uova. Pesce. Pesce, fo? Formaggi, salumi. No, i salumi poi invece bisogna cercare di mangiarli il meno possibile. Quindi morta della salame bisogna mangiarli spesso? No. No, non è che fa. Oppure quelli che proprio bisognerebbe evitare, ma mangiarle proprio a lunga, sono le patate, fritte, ecco, le cose gassate, vero? Non fanno bene. Allora, spero di essere stata chiara. Saluta le maestre, ci siamo molto dilungati. Maestre, ciao, mi mancate tantissimo.